Ciao ragazzi sono Craxo e bentornati su Brawl Stars Amici, quest'oggi video specialissimo Primo video dell'anno perchè ieri non sono usciti Oggi 2 gennaio Colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri di buon anno Buon anno a tutti quanti Video super speciale perchè non sono da solo Come vi avevo promesso Avevate lasciato una cosa come 14.000 like Nel precedente video di Brawl Stars Oggi andiamo oltre Non ne ho portato solamente uno di 10.000 coppe Ne ho portati due Abbiamo Nemos Nemos e Manny Che sono due player Incredibili Vi faccio vedere i profili Innanzitutto ciao una regà come state? Tutto bene? Ciao belli, ciao raga Io sono Nemos e Tony Bella Nemos Io sono Manny Fenomeni, fenomeni assoluti Io mi sento un abbetto qui Ma che sto facendo? Io chiudo il video Che sto facendo qua regà? Ma no tu sei il più forte frate Volevi vedere Ho già giocato insieme a Milano Sì vabbè Nemos ragazzi lo conoscete sicuramente tutti Caster di Clash Royale Proplay Cioè diciamo sta un po' nel giro del pro player di Clash Royale Manny invece è un pro player di Brawl Stars Vi faccio vedere solamente i profili Partiamo da Nemos Profilo semplicissimo 10.000 coppe pulite Record di trofei 10.869 Tutti quanti player livello 10 Tutti stellati Sì Stelline Stelline ovunque Sì 22 stelline L'altro Manny invece Il signor Manny Ha come record 13.016 trofei Cioè cosa sono io in confronto? Niente Tutti stellati Tranne 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 Leone Perché l'ha trovato dopo Come mi stava spiegando prima Ma comunque un fenomeno Sei davvero un fenomeno Complimenti bro Sì e poi lo tengo basso anche per le Per le fortuiti Esatto Perché mi ricollego Mi ricollego al discorso Io ragazzuoli sono qui per fargli perdere coppe Le cose sono due O mi faccio carriare malissimo Durante le partite che vedete tra poco Oppure Sono qui per fargli perdere tutte quante le partite È molto molto più probabile Secondo me Vai tranquillo Tutte le intime Vedero gli schiaffi devastanti Ma per questo super video speciale ragazzuoli Primo video dell'anno Per quanto riguarda Brawl Stars Voglio che tutta la community Distrugga il pollicione all'insù Quanti ne devono lasciare? 60.000 Sì è buona 60.000 Oh subito 60.000 Grax pelato Ma 60.000 Cioè neanche una song Le fa 60.000 60.000 Non ci arriveremo mai È impossibile Io volo basso Un altro 13.000 like Secondo me si può fare Conto su di voi 60.000 Grax pelato Hashtag Ma non ha senso Grazie a tutti per il supporto Molto importante Ecco altra cosa Prima di partire Il caro Nemos Oltre che Famosissimo Streaming Su Twitch Eccetera Vi lascio il link in descrizione Averto un canale YouTube Io vi consiglio di passare Lo trovate qui sotto in descrizione Perché ci sarà una seconda parte Dove sclereremo Cioè sclereremo in questo video Sclereremo anche nel suo video Passateci mi raccomando Torate anche nel primo commento Detto questo Siete pronti Regà Io non sono pronto Non voglio partire Mi sento male Pronto Vai Spelli potenti Partiti Ai Marelli Oh my god Ok Via via Io non so cosa fare Ragazzi Io andrò in giro Cioè sto giocando Con due 10.000 coppe E io non mille Infidi di me Vabbè Mica testa martellata Fam Certo Fidarsi di un player Che ha 12.000 coppe più di me Io sono arrivato a mille Un'ora fa Vediamo se Ma sono scarsi Non lo so Aspetta un attimo Perché ho fatto un colpettino Gli ho fatto veramente tanto Attenzione al mio Danamaic Attenzione al mio Danamaic Ovvio ragazzi Ho messo Danamaic Credo sia il brawler Che so utilizzare meglio Allora io te li distraggo No No fra T'ha scoppiato male zio Non può succedere T'ha scoppiato male C'è Manny che li sta Pushando da solo Praticamente Non so dove sia Non lo vedo neanche sulla mappa Sei pronto E sono morto Occhio al colt Silenzio Te lo faccio io al colt Grande Mi ho fatto un player Immortale È immortale Io sto sparando a caso Qualche colpetto Comunque lo sto riuscendo a fare Pensavo neanche di riuscire a colpire Noi prendiamoci qui Lo sfondo alle gemme Vai Nem Aia Bombone bombone Lasca a fare una kill Mi sento male Ho fatto doppie kill Non ci credo E' uno scherzo Ditemi che è uno scherzo Balla con me fratello Balla con me Altra kill Me l'ho fatta l'altra Sono un fenomeno Io non vado troppo su Che c'ho sei gemme Grazie Grazie Mi stra Non l'ho visto praticamente Bella pulita Manny GG Occhio a quella scelica Sei gemme C'è colta che sta a zero Ti countera malissimo Sì 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 Mi countera male 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 Eh quella fa malissimo Quella Sfrutta La dolentezza Eh il personaggio mio È molto utento Occhio lì Sarebbe da prendere Shelly Vai che Shelly va giù Vai che Shelly va giù Top Andata 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 Aia Questa fa male Occhio Nem Eh maledetta So forti Sto provando a fare danni In vero Mi mancano ancora 10 secondi Grande Manny Eh Io provo a fare danni Ma c'è la torretta Che no La torretta mi fa proprio danni Ah va bene Va bene Questa era di riscaldamento Comunque pensavo molto peggio Pensavo molto peggio Sì Frank Frank non c'è Frank non andiamo Signor Frank Erano abbordabili A livelli 5 Primi schiaffi Ma ho sognato Per un momento Ho veramente sognato Di riuscirci Io rimetto pronto Mi sono gassato tantissimo Quando sto facendo tutti quei colpi Adesso dobbiamo vincere però Basta La prima era di riscaldamento La prima ragazzi sapete che è per i nabi La seconda però è vittoria Sicura Secondo me questa becchiamo gli 11.000 Perché Nemo si aprirò penny Comunque Aia Speriamo di no Speriamo di no Ci sta mettendo un po' a cercare Eh Questo non fa ben sperare Diciamo E quindi Gli essiamo ancora il tempo Per spingere Esci Forse Infatti Mi mettere No ok L'ha trovata Hai parlato Nemo l'ha trovata Attenzione Adri the clash Te lo assicuro io Che ho menti Eh no Io riconosco tutti e tre Praticamente Grax Un bel video No Mi sto sentendo male Mi sto sentendo male Allora Serve il miracolo Ragazzi Fatemi entrare nel mondo Del pro player Adesso si tragiarda Occhio che poco lo mangio No stavo per mangiarmi poco Oh molto poco Bella Allora vedo quel bar lì Non è male Settecento Grandissima la combo Bella Bella A meno che questi Si sono appropriati Di nomi finti Perché Mamma mia Mamma me li sto mangiando Ma questo nemos Ma quanto va questo nemos Ma io Frank Non lo riesco ad utilizzare Ma li vogliamo sponchillare? Eh no Fa musica con i nostri Non esageriamo Dici giustamente Stai retta a me È una tecnica Probabile Una tecnica Magari andiamo tutti là Adri probabilmente Sta laggando la marca Oh Doppia di Grax No Me l'ha fregata Eh fratello Stay quiet Attenzione Che Adri l'abbiamo mangiato Giù 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 Scendiamo 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 Messo un bombone difensivo Guarda guarda Stava skillata Guarda te sta skillata Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato No no Nice Sembrava impossibile ragazzi Ma non hanno praticamente giocato Non ho capito niente Io Ultima kill Ragazzi faccio lo star player Me ne vado Magari zio Manni giustamente Grande Manni Però bella partita Bella partita Vio cinque coppe Però Nemo Ti consiglio di riprendere Frank Ma Frank io l'odio Ti va bene una volta Non due Esatto Prendi Frank Prendiamo Frank Voi che avete perso il match di prima Quante coppe avete perso? Un botto? Cinque Vabbè no Si dai Coppe qua si si sembra cinque Ah allora volete Pensavo ecco Faccio i danni Gli faccio perdere tutta la scambia Invece no dai Posso fare altri danni Meno sei Più cinque Ok Questa è la terza Se riusciamo ne facciamo quattro Anche perché sono belle veloci Il video lo faccio durare leggermente di più Gianna Mike Manni Dove vado con Frank Che ti ho detto lo voglio Mostrare e apprendere gli schiaffi Sono concentratissimo Tripla Vai Ma di che stiamo parliamo? Mi sta anche laggando No ma Ok che sono bravo Però lascia perdere Questo video è veramente Schermato Eh si Guarda ci ho messo veramente pochissimo Oh bella hit Eh quella è forte Forte l'obbista È pazzesco È velocissimo Troppi troppi E penso che ce l'ho a livello 5 Quindi è I stessi livelli del tuo dino Mike più o meno È pazzesco Attenzione 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 Un po' che lo fa Un po' che lo mangio Grandissimo Nemos Martellata in face C'è il primo che Anche paura Guarda che ti faccio il trick Guarda eh Faccio sto trick Vai Bello culido Manny Cioè io ragazzi Pensavo sinceramente Peggio Ecco vado a prendere gli schifo Invece me la stavo giuando Dai no vai Chi è doppia Quasi doppia Mamma mia il colt Scendo Ok Ok Grande Nemos Super difensivo Nemos L'ho detto La prima era di riscaldamento Poi il resto Sono solamente schiaffi Per gli avversari Voglio l'ultima kill Mamma mia Questo class Dai no vai che mio Manny ovviamente Star player Oramai è normale Più 5 Buono Penso che anche te Con le on Potresti far star player Potrei farcela Potrei far Prima devo trovarlo Anzi prima devo sbloccare Tutti gli altri Perché non è solamente La metà 11 su 22 Una bella cosa Trovare Leggendario Magari Speriamo di trovarlo presto Dipende dal loro supporto Ragazzuoli Like a go go Per questi video assurdi Perché questo è un contenuto Davvero specialissimo Like commentini Condivisioni Io direi Guarda visto che sono nel video Posso parlare Direi 30.000 like Prima shoppata No Non ce lo freghi Diciamo che Su Brawl Stars Non è che io Siano jamming Perché io sono jamming Su Clash of Clans Magari potrei diventare Shopping Jamming Su Brawl Stars Per 30.000 like Per 30.000 like Un pensierino Al Grax Shopping Si potrebbe anche fare Allora Quello Ricochet Me lo mangia a colazione Non è bene 60.000 abbiamo detto Perato 60.000 Tanto Non c'è proprio Possibilità Grax si è mangiato Nel frattempo Ricochet Dai Andata la grande Solamente la prima Se no Perfect video Peccato Per la prima Tagliamo la prima Tagliamo Si Fa sproduzione Nessuno ha visto niente Quel colto potrebbe andare giù Ok Siamo messi abbastanza bene Abbiamo leggero un po' splittate Guarda Io vado a fare Di taggio Dai Io prendo un po' di vita Ahia Bam Logicamente Sono uno Scacciato Morto Non so se è peccato La mia Quasi doppia L'ho visto L'ho visto L'hai aperto Adesso gli balla Immunisibile Tac Io Prendo le botte io Faccio da spare in partner G G Troppo forti ragazzi Non c'è Davvero Storia Pazzeschi Peccato per la prima Per il resto Top 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 Livello 22 Dai una mic Quasi al grado 11 Ragazzi Grazie Grazie per il supporto Grazie a Nemos Grazie a Manny Se volete altri episodi insieme a loro Che sono top player Mi raccomando il pollice All'inizio come ho detto prima Però Vi do l'appuntamento Al video di Nemos Che trovate in descrizione Sia video Primo commento Anche nelle schede Linkerò tutto quanto Un bacione grandissimo Buona anno a tutti Grazie ragazzi Per questo fantastico video Ciao Belli Ciao Belli Ci vediamo presto Ciao ciao Belli Ciao 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 Grazie.